Se volete acquistare crediti passate da FIFA Coinzone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete il 3% di sconto, troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, mi iscritti più brutti, bentornati su Giove H di Spò Io sono Giovi Spò e mi state vedendo in faccia, di faccia, vabbè, dettagli Siamo qui su Food World Cup, perché? Perché sto per iniziare una serie Questa serie si baserà su un score builder di nazioni, ovvero ci saranno tutti i giocatori della Costa d'Avorio, tutti i giocatori della Francia, tutti i giocatori dell'Irlanda, per esempio Io inizio con la Corea del Sud In questa serie farò la costruzione della squadra, la Corea del Sud Ho iniziato la Corea del Sud perché avevo quasi tutti i giocatori della Corea del Sud Quasi tutti i giocatori dell'Honduras e quasi tutti i giocatori dell'Australia Allora, la faccio breve e breve Inizio con la Corea del Sud Faccio una squadra, diciamo con una specie di score builder E poi farò una specie di road to glory Sarà diverso, perché? Perché farò la fase a gironi e tutto Fin quando arrivo Per esempio, con la Corea del Sud Arrivo ai semifinali e poi perdono Si conclude lì Per poi iniziare con un'altra nazione Con la Corea del Sud Inizio questa serie Particolare, squad builder più road to glory Mi è venuta, non so da dove mi è venuta Mi è venuta Iniziamo quindi Con un 4-3-3 Un 4-3-3 con un cdc e due cc Questi sono i giocatori che ho trovato nei pacchetti E diciamo che Non è una squadra fortissima In panchina e riservo Ho già messo altri coreani del Sud Diciamo l'intesa arriva a 100 Perché sono tutti coreani Va bene, normale La valutazione dovrebbe essere 2 stelle e mezzo Mi sa 2 stelle e mezzo E penso che ad episodio porterò solo una partita Perché con queste squadre è davvero Un po' difficile Riuscire a vincere Le partite Perché Tu purtroppo Sul Futuro World Cup Trovi davvero tante persone Che hanno giocatori forti Tipo incontri Uno che ha Suarez Che ora è anche Il International Man of the Match Quindi è il 92 Prima era ora 88 Ancora ancora Ma Tappo di combattio Ora è il 92 Peggio ancora Dove trovare quelli che hanno Messi Quelli che hanno Neuer E quindi Ah È arrivata a 3 stelle e mezzo La valutazione Quella è la squadra della riserva E ora andiamo a cercare Il nostro primo avversario Di questa serie Che spero inizi Proprio bene L'ho già registrato Non vi dico nulla Perché Non voglio spoilerare O niente Allora Incontriamo uno Che patteggia Per il Brasile Sappiamo che 85 Di valutazione 100 Di intesa Del Sud America E incontriamo un'europea E chi abbiamo Cristiano Ronaldo Alla prima partita Bam C'è se Cristiano Ronaldo Un'europea Un'europea Meno de Match Neuer E altri Vabbè Un'azione con Cristiano Ronaldo Che la passa alla testa Di Lukaku Il portiere Non può farci nulla Sullo sviluppo di questa rimessa laterale Arriva Yeki-Hun Con questo sinistro Micidiale Mamma mia È stato Proprio bello Questo gol Non pensavo che fosse così forte Questo giocatore Dovrebbe essere L'ala sinistra Con 70 Di tiro E 85 Di velocità Che l'ho messo Che ho Messo a destra Perché è mancino Quindi Questi gol Li sa fare Poi arriva un altro gol di testa Con Pedro Alla faccia Pedro mi segna di testa Vabbè Poi arriva il 3-1 Sempre di me Versare con Lukaku Terzo gol Terzo gol di testa Ora c'è un po' di rivincita Per me Che segno anche io Un gol di testa All'82esimo Arriva un altro gol Con Pedro Che fa la doppietta Di testa Poi arriva il gol Con Lukaku Che Prende questo pallone Dopo la caccata difensiva Nulla da fare Finisce 5-2 Verso la prima partita E la fase di giro E' un pacchetto Che non vi farò Vedere perché sinceramente Non si trova mai niente E il migliori Per me Per la mia squadra E' stato l'attaccante Ebbene ragazzi Questo primo episodio Si conclude Spero che vi piaccia Questa serie Se avete qualche suggerimento Da darmi Datemelo qui sotto Nei commenti Vi dico di passare Dal link Che trovate qui sotto In descrizione Che è una persona Che organizza tornei Se vi è piaciuto Questo video Lasciate un bel pollicione In su Iscrivetevi al canale Se non siete già iscritti Qui è Jovispo Vi saluto e vi ringrazia E ci vediamo Alla prossima Con un nuovo video Ciao E bella a tutti